Il cielo è pesante di nuvole quando raggiungiamo la procura di Cosenza. All'interno l'albero di Natale rimanda alle feste imminenti, ma il procuratore al suo posto sono ore intensa di lavoro. Nel cuore del centro storico della città dei Bruzzi un CAF si è trasformato in un vero e proprio laboratorio per l'emissione del reddito di cittadinanza e lo stesso procuratore a spiegarci da cosa è partita l'indagine. Noi avevamo una lunghissima serie di denunzie a carico di persone che usufruivano del reddito di cittadinanza non avendo dei requisiti. Però abbiamo pensato che invece di andare su queste persone che molto spesso sono dei prestanome oppure dei fruitori di utilità assolutamente minime, di andare alla radice. Abbiamo scoperto un sistema molto collaudato per cui un CAF predisponeva false domande per la fruizione del beneficio, otteneva il provvedimento, otteneva le provvidenze economiche, queste provvidenze venivano poi spese sempre sugli stessi esercizi commerciali, quindi abbiamo ricostruito un giro molto cospicuo di circa 3 milioni di euro nell'arco di pochissimo tempo. I percettori del reddito di cittadinanza per lo più stranieri, per lo più romeni, venivano accompagnati in un ufficio postale del territorio e le stesse indennità venivano spese, lo avete sentito, in alcuni esercizi commerciali, in particolare in uno store cinese. Ma quali i vantaggi del CAF? Attraverso un accordo con i soggetti dove si spendevano e si ingassavano questi soldi avevano poi il ritorno economico. In buona sostanza i fruitori del beneficio, i singoli soggetti extracomunitari o non extracomunitari, di questi soldini vedevano veramente ben poco. Un vero e proprio sistema scoperto dalla Guardia di Finanza, le cui ramificazioni si estendevano anche fuori dai confini nazionali.